Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial su Tableau. Oggi vedremo come raggruppare i dati, tutte le opzioni che Tableau ci mette a disposizione per effettuare il raggruppamento dei dati, le varie differenze tra i vari metodi e quando è meglio utilizzare una piuttosto che l'altra. Apriamo come al solito il nostro file Superstore Europa. Utilizziamo il foglio ordini e apriamo il foglio di lavoro. Per questo esempio creiamo un semplice grafico a barre, prendiamo ad esempio il paese e le vendite. Supponiamo di voler raggruppare in un'unica voce tutti i paesi che fanno parte dell'area mediterranea. Il metodo più semplice è quello di agire direttamente con il mouse nell'header, nell'intestazione. Prendiamo ad esempio tenendo selezionato il tasto Control, clicchiamo su Francia, Italia, Portogallo, Spagna e qui abbiamo questa iconcina a forma di clip. clicchiamo e i nostri quattro paesi ci vengono raggruppati in un'unica voce e il valore della somma delle vendite ci viene sommata. Se vogliamo dare un nome diverso a gruppo, clicchiamo qua sull'alias e scriviamo Paesi Mediterranei e questo è il modo più semplice e più diretto per fare un raggruppamento. Ora, cancelliamo e andiamo a vedere il secondo metodo. Mettiamo di nuovo il paese nelle righe e facciamo invece il raggruppamento utilizzando la finestra dei dati. Quindi qui dove abbiamo un elenco delle nostre dimensioni scegliamo Country, clicchiamo sul destro e facciamo Create Group. In questa finestra abbiamo tutto quello che ci serve per riuscire a fare il gruppo. Possiamo prima di tutto cliccare sempre tenendo schiacciato il tasto Control, Italia, Portogallo, Spagna. Qui abbiamo il pulsantino Group e ci viene già aperto anche la possibilità di cambiargli il nome. Clicchiamo su OK e adesso questo, vedete che la dimension originale non viene modificata, viene creato un nuovo gruppo che si riconosce perché ha questi concini a forma di clip e c'è proprio scritto gruppo. Se noi lo sostituiamo alla voce originale ed ecco che abbiamo qua i nostri paesi raggruppati. Se ci accorgiamo che deve modificare il gruppo ci basta cliccare qua con il tasto destro scegliere Edit Group e possiamo ad esempio ho lasciato apposta fuori la Francia possiamo selezionare Francia cliccare qui in cui avremo l'elenco di tutti i gruppi che abbiamo già creato clicchiamo e ci viene aggiunto o altrimenti possiamo anche semplicemente trascinarlo all'interno del nostro gruppo. Se abbiamo un elenco molto molto lungo che ci obbliga a salire e scendere con la barra di scorrimento possiamo anche cercare direttamente quello che vogliamo trovare ed ecco che ci viene selezionato in automatico oppure utilizzando come formula il Contains quindi che contenga la parola Germany che inizi con Germany oppure che sia esattamente la parola Germany. Se vogliamo suddividere il nostro grafico in modo che ci faccia vedere solo il gruppo che abbiamo creato e tutti gli altri possiamo cliccare con il tasto destro e scegliere Include Other in questo modo avremo il gruppo dei paesi selezionati e il gruppo di tutti i paesi non raggruppati. Andiamo ora a vedere invece come effettuare dei gruppi selezionando direttamente i mark all'interno del grafico tiriamo via qua il gruppo rimettiamo il paese possiamo agire direttamente sul grafico ma questa volta dove ci sono propri dati quindi nella parte di destra possiamo ad esempio selezionare la barra dell'Italia del Portogallo della Spagna e della Francia e scegliere Crea Gruppo vedete che automaticamente Tableau mi mette in un colore gli elementi che io ho selezionato invece tutti gli altri elementi che non fanno parte del mio gruppo vengono colorati con un colore diverso che di default è sempre il blu e il grigio cosa succede però se io ho più di una dimension all'interno del mio grafico ad esempio cancelliamo i gruppi che abbiamo creato fino adesso così risulta più chiaro e mettiamo il metodo di spedizione nel colore cosa succede se io clicco qua su Austria vedete che c'è la freccettina in basso mi chiede se voglio raggruppare per tutte le dimensioni per il paese o solo per il metodo di spedizione se io dico all dimension lui mi fa un gruppo creato da dalla sola Austria e dalla standard class spedizione standard class che è quella che io ho segnato se scegliessi standard class dell'Austria e la standard class della Germania lui mi crea un gruppo con questi due e l'altro gruppo con tutti gli altri se io volessi ad esempio selezionare solo la second class per tutti quanti mi basta cliccare qua su second class e fare group ship mode ecco che la second class di ogni stato ci viene separato graficamente e raggruppato rispetto a tutti gli altri metodi di spedizione che invece rimangono in grigio non so se vi siete accorti che i gruppi fatti direttamente sul mark assomigliano molto ai set ad esempio adesso io tolgo questo togliamo un attimo questo cancelliamo il gruppo voglio fare un gruppo creato da Austria Belgio e Danimarca creo il gruppo questi tre e quegli altri fuori adesso creiamo un set che contenga Austria Belgio e Danimarca vedete che a parte il fatto che cambia il colore sono praticamente identici perché Tableau ci dà la possibilità di creare dei gruppi e dei set che così a primo acchito possono sembrare uguali in realtà non sono uguali dobbiamo pensare al gruppo come una sorta di di metadata come quando noi andiamo qui a cambiare a dire che le vendite le vogliamo sempre con il colore rosso che ci vengano mostrate sempre con il colore rosso è solo un modo diverso di vedere i dati i set invece sono proprio una combinazione vera e propria di dati come il risultato di un filtro cioè non è solo un modo diverso di disporli seconda cosa i gruppi non si possono combinare tra loro io non posso creare un gruppo del gruppo vedete che non mi viene data neanche l'opzione i set invece si possono combinare tra di loro posso creare un set del set che poi sarebbe un subset altra cosa i gruppi non si possono usare nei calcoli i set invece si e in ultimo in ultima battuta i gruppi non si possono hanno delle grosse limitazioni quando si vanno ad utilizzare dei diverse fonti di dati si fa un blending quindi nel insomma i gruppi non possono essere non vengono riconosciuti dalla fonte secondaria dei dati mentre i set possono essere utilizzati su tutte le fonti di dati su tutti i blending effettuati quindi ricapitolando raggruppamento direttamente dall'intestazione ovvero dal ladder si seleziona e si crea il gruppo raggruppamento direttamente dalla finestra dei dati cliccando su create group su una dimension e qui abbiamo tutti gli strumenti per creare uno o più gruppi vogliamo aggiungere possiamo altrimenti anche trascinare direttamente dentro e poi creazione dei gruppi direttamente agendo sui sui marca all'interno del grafico di o